Punizione! 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 Che cosa? Ok! Vado via da qui! Questo è quello che pensi tu? A cosa serve la matematica? Tutto quel gesso? Ah, giù! Ups! Ora basta! Era solo uno starnuto! Il gesso non soliticherà il mio di naso! Ah, ottimo! Ecco come si starnutisce! Non credo sia salutare! Ora dove eravamo? Divertiamoci un po', che ne dici? Ci sono quasi? Sì! Hai paura di starnutire, eh? Niente di meglio di qualche spezia per solleticare il naso! Devo fare molta attenzione! Basta una sola goccia! Questo è molto più divertente della matematica! E' fatto! E' pronto per essere usato! Non vedo l'ora! Fiu! Il raffreddore non mi dà pace oggi! E' una cosa incredibile! Oddio! E' ciù! Wow! Oh! Aia! La mia faccia! Oh! Accidenti! E' ciù! Wow! Avrebbe dovuto avvisarmi! Non voglio starnutire più! Ehm! Professore? Cosa ci fa lei qui? Occhio! Come no! E' ciù! Mi dispiace tanto, professoressa! Aspetti! Oh wow! Ma oh! Sono così imbarazzato! Salsa piccante! Oh! Salsa piccante! Olivia! Punizione! Non sa stare a uno scherzo! Una pazza! Se solo la matematica potesse abbracciarmi! Potrebbe mai essere più noioso! Non sta nemmeno prestando attenzione! Il che significa che è tempo di divertirsi! Ma no! Sul serio! Molto bene! Devo bagnarlo tutto! Cosa diavolo? Non credo proprio! È un progetto scolastico, professore! Mhm! Come se uno sguardo maligno potesse fermarmi! Penna numero due in arrivo! Cosa sta succedendo laggiù? Smettila! Smettere cosa? Non c'è niente da vedere qui! Hm! Sto solo scherzando! Qui piove colla! E ora del glitter! Guarda che casino! Non è fantastico! Sulla mia scrivania è come Natale! Olivia! Quando è troppo è troppo! Che cosa? Non sto facendo niente di male! Credi che io sia nato ieri? È solo la solita cancelleria! No! Dammi qua! Ma ce l'ha con me! Guarda la sua faccia compiaciuta! Professoressa! Ma non è bellissima oggi! Questa è per lei! Wow! Per me! Voglio vedere mentre lo apri! Immagino di poterla accontentare! Oh! Accidenti! Professoressa! È colla! Ed è finita nei miei capelli! No! Che spettacolo! Tu! Punizione! Che cosa? Ancora? Io! Ma dai! Vado! Vado! La lettera A è incredibilmente versatile! Ora vediamo! Odio l'inglese! Qualche domanda? Oh! Ti sto annoiando! Ehi! Svegliati! Questa è la scuola! Non la tua camera da letto! Svegliati subito! Non mi dai scelta! Niente più sonnellini! Ah! Era proprio necessario! Molto meglio! Sono sveglia ora! Gli piace quel megafono, eh? Gli darò un assaggio della sua stessa medicina! La prossima volta che la userà, otterrà molto più di quanto si immagini! Sono geniale o cosa? Devo solo rimetterla a posto! Lentamente! Facile! Ecco! Ora mi godrò lo spettacolo! Capito? Dormi di nuovo! È semplicemente ridicolo! È ora di svegliarsi! Claire! Cavolo! Funziona ogni volta! Ciao! Oh! Grazie per avermeli portati! Hai qualcosa proprio lì? Qui? Ho capito! No! Sul mento! Le labbra? No! È un po' ovunque! Ora va meglio! Ti faccio vedere! Oh! Io... Questo è troppo divertente! Che cos'è? Il chiostro nero! Cascato! Che figura! Oh no! Mi dispiace! Ne parleremo più tardi! E tu? Punizione! Adesso! Io! Punizione! Ne basta la pena! Come vuole! La mia vita è rovinata! Non posso credere di essere ancora sveglia! Sfruttiamo la situazione al meglio! Posso fare lo scherzo perfetto! Ups! Olivia? Ups! Cosa sta succedendo qui? Oh! Um! Beh! Dammi qua! Ah! Ok! Stupidi scherzi! Ora come faccio a stare sveglia? Come fanno a ridere per queste stupidaggini? Ora torniamo alla matematica! Lei di nuovo! Grazie! Ti chieda! Si siederà lì per davvero? Aspetta! No! Oh mio Dio! Accidenti! Mi dispiace così tanto! Non potrò più mostrare la mia faccia! Tu! Io? Tu! Punizione! Non è stata nemmeno colpa mia! Qui non c'è mai giustizia! Ah! Come ho potuto lasciare che accadesse! Non troverò mai l'amore! Ah! Sono così annoiata! Chissà quanto potrò allungare questa gomma! Probabilmente fino al prof! Ma guarda quegli stupidi vatti! Gomma da masticare! Sul serio? Che cosa? Non è niente di che! Ho detto niente gomma! Beh! Che cosa? Oh! I miei occhiali! I denti! Non li trova? Ma io sì! Non riesco a vedere niente! Presi! Che schifo! Farò in modo che non vadano da nessuna parte! Solo qualche piccola goccia! E ora serve qualcosa di appiccicoso! Delle gomme! Questi denti hanno bisogno di una sistemata! Ecco qua! Ah! I miei occhiali! Ecco qua! Molto meglio! I miei denti! Ta-da! Ecco! Ora tornate al lavoro! Buongiorno e salve ragazzi! Accidenti! Ti ho portato uno spuntino! Che dolce! Che cosa? I tuoi denti! Che figura! Sì? I tuoi denti! Sono belli, eh? Non lo capirà mai! Aspetta! Non capisco! È troppo forte! Che cavolo! Perché continuavo a parlare dei miei denti? Oh no! Ti sento davvero strano! Tu! Io! Punizione! Per cosa? Ok! Ok! Vado! Questa ragazza mi sta rovinando la vita! Anche tu eri una peste a scuola? Quante volte ti sei cacciato nei guai? Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici! Iscriviti al nostro canale YouTube per non perdere il divertimento!